Ok raga devo coprirmi perchè adesso dobbiamo fare la sorpresa Là c'è qualcuno che mi ha riconosciuto in questa altra Non piangere Giorno ci siamo a tutti ragazzi ed eccoci tornati con questo nuovo video vlog Oggi come avrete letto dal titolo sono tornato qui sul canale con un video vlog un po' particolare Perchè infatti dopo aver visto il terzo episodio di vado a casa di una fan che è una serie che vi è piaciuta tantissimo qua sul canale Mi avete chiesto di portare nuovi episodi E oggi finalmente ho deciso di portare un nuovo episodio però un po' diverso dal solito Perchè infatti non andrò a casa di una mia fan ma andrò direttamente a scuola Però adesso aspettate un attimo che vi spiego tutto In pratica c'è questo mio amico che mi ha detto che nella sua scuola ci sono diverse ragazze che mi seguono E alcune in particolare sono delle fan che mi seguono davvero tanto E quindi proprio per questo ho deciso che andrò a fargli questa sorpresa E ora vi spiego un po' come ci siamo organizzati perchè ancora ci dovrei andare Praticamente durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola io mi nasconderò in una parte un po' più lontana dalla scuola Comunque una parte in cui il mio amico porterà le sue due amiche verso di me Con una scusa del tipo non so andiamo a casa insieme Facciamo un tratto di strada insieme E penso qualcosa se lo inventerà E proprio nel momento in cui passeranno nella parte in cui sarò nascosto Io puff apparirò E dai spero che la sorpresa vada bene perchè si tengo davvero tanto a far felici delle ragazze che mi seguono E comunque se ancora non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi tutti quanti per non perdervi nessun video Perchè si terrei davvero tanto ad arrivare a 50.000 iscritti e penso che insieme riusciremo a raggiungerli E a parte questo devo fare ancora una cosa infatti aspettate che faccio comparire il telefono Ed eccolo quasi raga io lo faccio sempre ormai risaputo Quindi se ancora non l'avete fatto seguitemi tutti quanti su instagram Mi chiamo Nick Ace Youtube Niente seguitemi E detto solo direi che posso lasciarvi al video Che bella raga A scuola Stiamo imbucando Ok raga devo coprirmi perchè adesso dobbiamo fare la sorpresa raga Ha due fan Ha due fan Come vi ho detto prima nell'intro Oh ma fa... Gela Già c'è qualcuno che mi ha riconosciuto in questa scuola Della ripresa che stiamo aspettando l'uscita Vediamo un po' delle fan da scuola Se riusciamo a fare la ripresa Ryan da dove arriva? Da lì Dove vai? Aspetta che rimpizzolisco Vai Non ti ha mica visto vai Guarda che stia arriva Lui è il complice Che ce li ha portate Ce l'ha portate E l'altra dove ce l'hai? Dove devo andare a toccare Allora va a prendere anche l'altra Non piangere Ti serviva ad andare a trovare Che poi le... E niente raga C'era anche l'altra ragazza Qui dovevamo fare la sorpresa Però dato che perdeva l'autobus Non è potuta Adesso possiamo la fermata Vediamo le reazioni Vediamo È lui raga E abbiamo portato a scuola a bozza Vai Stiamo girando il video Che siamo venuti a trovare un po' di fan a scuola Ce l'hai? Vai La riprendi Dai Quindi ragazzi Questo video si conclude qui E niente Se vi è piaciuto Vi consiglio di lasciare un like qua sotto Commentare Di condividere Con tutti i vostri amici E di iscrivervi Sa ancora non l'avete fatto Inoltre se volete nei commenti fatemi sapere se vi piacerebbe vedere nuovi episodi in cui vado a casa delle fan E vi ricordo che ho fatto anche un video in cui vi spiego come fare per far sì che io venga a casa vostra E comunque vi lascio il link in descrizione Perché mi piacerebbe davvero tantissimo venire a farvi sorpresa anche in altre parti d'Italia Poi se volete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti il canale Vi consiglio di seguirmi nelle pagine Instagram e TikTok Il quale link e nickname trovate qua sotto nella descrizione e nell'info box E detto questo direi che noi ci vediamo al prossimo video Un bacione Ciao